Mi ricordo quando ero io con le nostre maestre e tutti i miei compagni che siamo venuti qua fare il gelato con l'azoto liquido. Io mi ricordo quando mia mamma si portava il latte a lavoro per fare degli esperimenti perché lei mi diceva sempre che il latte dentro aveva delle cose che non mi ricordo più. La chimica è una scienza sperimentale, spesso nelle scuole per vari problemi non si va mai in laboratorio, ci si limita a studiarla sul libro, la si riduce quindi esclusivamente agli aspetti formali e simbolici, diventa una sorta di gioco enigmistico slegato dal reale e anche un po' noioso. In realtà quello che compare nei libri deriva dall'osservazione della realtà. Potete iniziare a osservare quello che accade nelle vostre cucine ogni volta che mescolate degli ingredienti e scaldate state facendo avvenire delle trasformazioni chimiche. In seguito tutto l'apparato formale e simbolico e lo studio delle teorie potranno servire a descrivere e spiegare quello che è successo. Estratto da piante. Estratto dalle piante. Estratto alle piante. Per rispondere a questa domanda partiamo da un esempio, la vitamina C. Come sappiamo questa la possiamo estrarre dalle arance per esempio o la possiamo ottenere in laboratorio da sintesi. Bene, da un punto di vista chimico è possibile distinguere la vitamina C sintetizzata da quella estratta dalla pianta. Però per la maggior parte delle proprietà e in particolare se consideriamo le proprietà inerenti all'interazione con l'organismo quando lo assumiamo o se consideriamo un principio attivo le sue proprietà farmacologiche si comporteranno nello stesso identico modo perché sono composte dallo stesso numero e dallo stesso tipo di elementi e hanno la stessa identica struttura molecolare. Acido citrico. Sceglierei l'acido citrico perché visto che è contenuto nel limone a me piace il limone, il gusto, sceglierei quello. Se non sbaglio sono la stessa cosa solo forse uno è appunto preso dalla sintesi e l'altro no. Nonostante il nome così differente acido citrico e dei 330 sono esattamente lo stesso identico composto. La sintesi chimica di composti in ambito alimentare infatti permette di ottenere dei prodotti di qualità garantita a prezzi inferiori rappresentando quindi un vantaggio sicuro per la filiera alimentare. Non solo, la chimica inoltre permette anche di valutare e garantire qualità e autenticità dei prodotti alimentari e di permettere la produzione anche in ambienti critici e di continuo cambiamento. Si possono inventare dei liquidi che magari cancellano queste scritte nei beni culturali che così possono essere più facilmente tramandabili nelle nuove generazioni. Serve i materiali proprio per andare a restaurare gli oggetti alla fine si basano sulla chimica. Conoscere le varie sostanze che interagiscono con i pigmenti, con le pitture, per il caso dei quadri. Pensiamo allo sviluppo di sostanze preparati specifici ed efficaci per le diverse operazioni di restauro come ad esempio proprio la rimozione dei graffiti dai monumenti. Ma c'è dell'altro. Con le analisi su reperti archeologici e opere d'arte la chimica può dare informazioni preziose ad archeologi e storici dell'arte per aiutarli a capire come venivano prodotti e scambiati gli oggetti del passato oppure quando serve per svelare i falsi.